Presidente Giovanni Dele Cave, siamo al termine della quarantesima puntata. Caldo le sensazioni della trasmissione? Le sensazioni della trasmissione prima di tutto è una trasmissione molto ben organizzata da persone competenti, tra le quali tu e Peppe La Rosa e anche gli operatori. Io ho detto, torno a ripetere, fin quando c'è una squadra che si va tutti uniti, rimano tutti per lo stesso modo, si va avanti. Quando uno inizia a rimare contro si può rompere il giocattolo. Il mio saluto particolare a tutti i tifosi del Casano che mi hanno sentito. Ho sempre sostenuto in questi sette anni. Il calcio, come lo sport in generale, mi manca un po', ma soprattutto il calcio. Adesso mi sto dedicando. Vado a seguire il Napoli, quella è una passione unica. In futuro chi lo sa? Mai direi mai in futuro. Saluto a tutti di nuovo e grazie a voi per l'invito. Grazie. Grazie.